ostriche ostriche parliamo di ostriche mini playlist al brucio su questo tema con tre cartelli alla floris per altrettanti locali ecco qua specialisti delle ostriche food writers come diciamo noi a boston è un bel locale in zona san siro verso san siro si mangia molto bene hanno una gran quantità di ostriche varietà diverse che arrivano dall'irlanda dalla francia e anche dall'italia a secondo delle stagioni passiamo al cartello 68 ostriche vino e voi mi direte ma perché si chiama ostriche vino perché hanno il vino ma soprattutto hanno le ostriche una coincidenza strepitosa ostriche anche qui grandi varietà grande freschezza il locale è intimo e carino vicino alla d'arsena sempre in zona navigli su per giù abbiamo anche crudite crudite come disons nous è un altro locale di pesce così specializzato i nostri che da dichiararsi nell'insegna addirittura oyster house crudite francese oyster house no ma insomma ve lo consiglio perché ha anche qui un grande ventaglio di proposte e anche i piatti di pesce non sono male chiudo qua la nostra cronaca gastronomica e vi do appuntamento alla prossima settimana buone le ostriche